La partita di ora è Paris Saint-Germain contro Olympia in Marsiglia, suggerita da Chiesa 7. Sarà una partita interessante, 10 minuti, difficoltà a regolare, casuale, tutto casuale, tranne ovviamente le squadre che ce le sistemiamo. Non sono troppo convinto, ma non vedo grandi chance, potrei metterci Kezman, cavolo Kezman mi piace pure come giocatore, anche la panchina è buona. Poi abbiamo conto Mandanda, Diawara, Heinz, Bonnan, Taiwo, Sissea, Abriel, Ceiro, Nyang, Benarfa, buon giocatore, e Brandao. Va bene, andiamo in campo e facciamo il sondaggio. Ok, sondaggione per voi, ok. Siamo su PS10 Poi vediamo un po' come va la partita Mh, bella! Ok, scusami eh, non vedo la chat, bella squadra del Marsiglia nel 2010 eh, beh, certamente, era molto molto bella. Credere, crederci, 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 dobbiamo crederci insieme. Sì, è vero, il Marsiglia era un buon team, veramente. Ok, ci siamo, andiamo avanti. Che tifo, che tifo. Questo qui è il PS2010. E qui è già un altro team di commento eh. Ho sbagliato, ho fatto un error raccio. Vediamo com'è PS2010, che lo sto ancora testando. PSG è ancora non stellare, PSG è ancora buono, ma non quella squadra che feceva spaccare la macella come oggi. Kenzman, che gioca poi i guanti, avrà freddo, avrà freddo dai. Cavolo che bel gioco, com'è comodo PS10, che bello da giocare. Siamo quasi a fine era PS2, poi con il 2012 è un po' più posto la fine alla PS2. Anche se ormai questi giochi uscivano su PS3 ovviamente. Lo faremo pomeriggio retro gaming PS3 eh, lo faremo, lo faremo ragazzi. Quindi lo riprendiamo, prima di quanto immaginato. Ok, Kenzman, Kenzman. Siamo. Oh, traversa! Ragazzi, ma stanno giocando mica male. Tra l'altro siamo quasi alla fine della prima ora. Sono contento Leonardo che ti stai divertendo eh. Sono contentissimo, non puoi immaginare quanto. Secondo me sei primo nella top eh. Ho sta sensazione che se fai punto esclamativo top, sei il number one. Quanto all'avversario può andare? Erding. Erding. Kesman, Kesman. Pa 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 pa. Non capisco cosa stanno dicendo i tifosi. Non penso che dicano chi non salta. Viene messo giù, sarà calcio di punizione. Non dicono chi non salta rosso-nero eh. Non lo dicono. Mandanda attualmente gioca nel Red. Vedi che ci sono giocatori ancora attivi? Eh beh, è un piacere trovarli. Quanti anni avrà? Quanti anni avrà Mandanda? Quanti anni avrà oggi? Vengamo? Sono curioso a vedere come va. La top of the rock. Ok. Ci siamo, ci siamo. Taiwo, bel tiro. No, e ma perché ha fatto la donazione? Boia, 1200, è già diventato regola. Glielo devo dire sta cosa. Non se l'aspetta Eva. Tutti noi a pochi punti, sono pure io. Sono pure io appena appena. Vedi, tu hai più punti di me, perché tu sei più attivo. Io non scrivo in chat. Vedi, vedi. Vedi, vedi che bella roba. Bene, ci sarà pericolo. Eccolo. Boia, gol. Subito. 1-0. Sblocca la gara. La versione qui è evidente. Qui ci sta. E qui ci sta. Magari sarà bravo solo con un piede. Ma è un giocatore di qualità. Non c'è lo boia. Ma non può non esserci lo boia. È il mio sound. È il mio sound. Vabbè, c'è subito il gol. Ma basta questo Acme. Un'ottima partenza davvero. Adesso ci vorrebbe un altro gol. Me lo fa automaticamente. Devo modificarlo leggermente. Ho capito perché me lo fa. Ho capito. Adesso stanno controllando la partita. Gli avversari sembrano in evidente difficoltà. Evidente difficoltà. Siamo in zona pericolosa. Sì, ma... Non si può perdere sempre. Ok. Kets, bang. Kets, bang. Dai, ragazzi, facciamo il tifo. Kets, bang. Kets, bang. Erving. Oh, boia. Alla largamente sul fondo. Può prendersa con gli attaccanti. Eh, beh. So, and'accordissimo. Nyang. Qui è partito lo boia supremo, però. Dai, ci possiamo credere. Armando. Ma che l'è lì. Ma che l'è lì. Ha difeso bene qui il pallone. Giulie, 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 Giulie. Erving. Kets, man. Kets, man. Vai. Quasi gol. Bellissimo. Cos'è? Cos'ho fatto? Faccio a fine di lui. Urca. Urca. Non da quella parte lì, Kets, man. Altafini. Altafini. Pardo e Altafini. Ecco, il team. Pardo e Altafini. Kets, man. Ma io penso di giocare abbastanza bene, solo che il risultato... Non dà giustizia ai miei impegni, ma pareggeremo. Grande qualità. È una qualità incredibile. Ok. Che l'è lì. Che l'è lì. Ha, eh, eh. Olè. E che ci siamo? Attenzione, altro brivido. C'è ancora una possibilità. Brivido felini? Eh, sì. No. Grande Ice. Grande Ice. Grazie per il messaggio. I vostri messaggi mi danno la forza, lo sapete. Mandando. Ok. Sanno che... Sanno che... Non lo sapremo mai. Loro lo sanno, ma noi non lo sappiamo. Contenuti esclusivi. Ah, vera, vera, vera. Sta cosa che scrive Streamlabs è vera. Ci sono... Delle cose incredibili. Ma... Non farò mai video solo per abbonati, perché... Almeno, non è pianificato. Poi magari un giorno cambierò idea, non voglio fare quello che... Ma al momento non ho piani solo per abbonati. Non mi piace l'idea al momento. Posso sempre cambiare idea in seguito. Ma... Mi piace che sia tutto accessibile. Oh, Chiesa! Questa è la partita che hai chiesto a te. Guarda. PSG Olympic Marsiglia su PS10. È la tua partita, Chiesa. Il grande Pier Gignac. Ma forse qui è un tantino presto. Volevi vederlo tu, vero? No, è un po' presto. L'avevo controllato. Non c'era ancora. Non c'era ancora. Non c'era ancora. L'avevo controllato. Guarda. Però abbiamo Kedsman, ragazzi. Questa qui è la nostra formazione. Non c'è ancora Gignac. Me l'avevi chiesto per lui, ma... Non c'era ancora. Però vedi che... Volevo accontentare anche te. Accontento tutti oggi, eh. Calcio Forever. Leonardo. Vorato il turno. Se arriva qualcun altro, li ha puntiato volentieri. Camera. Come stai, Marco? Spero tutto bene. Ok. Taiwo. Yavara. Nyang. Fa ridere il nome Nyang. Però è un signore giocatore. Sto perdendo, eh. Ma... C'è una possibilità che mi recupero un po'. Entra Morientes. Urca. Ma è quel Morientes, quello nazionale, spagnolo. Sarà lui, per forza. Sì, sì, è lui. Guarda. Cavolo, è lui. E' anche bello vedere questi giocatori. Manuela ha la palla più semplice da trasformare in gol. Che bello sto commento. Brandao. Se n'è andata un'ora di gioco. Ma tiene in possesso. Fischia, fischia l'arbitro. Fischia. C'è fuori gioco. Brandao. Brandao, vuoi vedere? Non vedo Brandao. Neanche lui non vedo. Le mie dieci. Non vedo né uno, né l'altro. Ma neanche nella... Nelle riserve non l'avevo visto. Questo è il nostro PSG. Ma il PSG era ancora il PSG pre... Pre... Pre soldoni. Pre gran soldi. Sempre bello vedere il PSG. Già la seconda volta che oggi vedete il PSG. Ma perché no? E' bello vedere anche l'evoluzione di una squadra. Di gioco in gioco. Ma ad esempio il PSG di inizio 2000 piaceva. Ho fatto fallo. Giù lì, giù lì. Giù lì, giù lì. Erving? No. Scevo. Sarà anche quasi ora di fare dei cambi. Ah, Erving, Erving, ragazzi. È nostra occasione, dai. Bella. Ma non basta. Si voleva un altro attaccante. Si voleva un secondo attaccante. Brandao, meravigliavo. Se signore. Ma Brandao ce l'ho contro. Certo che c'è Brandao. Certo che c'è contro. Nell'Olympic Marsiglia. Certo, c'è Brandao. Infatti, guardavo fra i miei. Ma ce l'ho contro. E gioca anche bene. Vai. No. E volevo fare un cambio. Sono messi... No, non sono messi così male come pensavo. Però togliamo Sacco. E ci mettiamo... Sammi Traoré. Togliamo... Abbiamo bisogno di forze fresche. Però sono tutti in grande forma. Io non voglio togliere giocatori così fenomenali. Clement. Ci mettiamo magari... Un trequartista, anche se fuori in posizione. Chantome. Dobbiamo assolutamente pareggiare. E pareggiare. Altrimenti siamo fuori. Kezman, Kezman. Eh sì. Mike Clement. Mentre oggi sono un po' meno fortunato del solito con queste partite. Si nota. Si nota. Si nota. Tanto. Vai. Fateci sognare. Manca poco. Le persone dell'allenatore sono chiare con questo cambio. Vuole soltanto cercare il segnale. Decisivo qui l'intervento del difensore. Oh, cazzo. Kezman, Kezman. Kezman. Vai, se signone. Kezman, Kezman. E' il vero, direttore procuratore di Sergi Mininkovic-Sanbic. E' vero, vero. Mininkovic-Sanbic. E' lui solo il procuratore. E' ragione. Bravo, bel dettaglio, bel dettaglio. Ed è un buon giocatore, Savice. Cavolo, sono un buon giocatore. Brandao, come gioca, ragazzi. Olè. Mi piacerebbe dopo fare una sfida fra nazionali, fra squadre, fra team delle nazioni. Kezman, Kezman. Oh no. Oh no. Abbiamo ancora una chance. Comperbiamola. Giocherò largo. Praticamente al bordo. Giulie, Giulie. Ultima chance. Cross. Cross. Non c'è nessuno. Spingi, spingi. Sessegnoni. Ma la tira sulla luna, Sessegnoni. Poco, poco diverso dal Sergi. Più bello. Più bello graficamente. Quello non ci sono dubbi. Gratta un po', essendo PS2, gratta un po', quello bisogna dirlo. Certo, questo gioco avrebbe dato il massimo su una PS3 o Xbox 360. Il massimo assoluto. Kezman. Però, chi se ne frega, sono giochi del 2009. Ma... Ho perso. E rispetto agli avversari. Massimo rispetto anche quando perdo. Sì. Sì, sì, sì.